Prove di ripartenza per il turismo nel primo fine settimana di sole estivo, moltissime persone sulle spiagge del Tigulio, a Moneglia riprende il mercato e ci sono i primi eventi in programma. Sottosegretario alla Salute Costa ribadisce la linea del governo dopo la sospensione di AstraZeneca per gli under 60, tema che non deve essere al centro del dibattito politico perché è strettamente sanitario. Per uscire bene dalla pandemia ricostruire con pazienza e costanza. All'Angelus il Pontefice ricorda che Dio opera nelle piccole cose esortando di avere fiducia, no alla zizzania della sfiducia. Giornate di fermento per la diocesi, dopo l'affettuoso abbraccio a Monsignor Tanasini, mercoledì l'incontro in cattedrale con Monsignor Brambilla, ancora disponibili posti per l'ingresso di Devasini. Tre eventi a Sesti Levanti in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Al centro il tema migrazioni, raccontare le esperienze di accoglienza e sentirsi sempre più comunità. Estate, tempo difficile per il calo delle donazioni di sangue. Un appello a compiere questo gesto semplice, di straordinaria importanza, è stato lanciato nella giornata mondiale del donatore. La Filippa è un'altra cosa, viaggio nella discarica verde che non inquina e crea valore. Trasferta a Cairo Monterotte nel Savonese per la rubrica direttamente su, in onda alle 21.10 su Telepace 1. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Primo fine settimana di bel tempo e di caldo estivo nel nostro Tiguglio. In attesa dell'inizio della stagione vera e propria, che gli operatori stimano essere a luglio, le spiagge hanno iniziato a riempirsi sia di locali che di persone arrivate da fuori. Noi domenica siamo andati a Moneglia a vedere come il borgo si sta preparando a questa importante ripartenza. Vediamo. Si respira aria d'estate nel Tiguglio. Il primo fine settimana di sole e caldo intenso ha fatto intravedere cosa attende la riviera nei prossimi mesi. Tantissimi bagnanti nel Levante. A Sestri Portobello era già piena dalla mattina e anche Lavagna e Chiavari hanno visto molte persone sia locali sia arrivate da fuori. L'inizio vede proprio della stagione turistica, però, secondo gli operatori, è atteso per luglio con l'arrivo più massiccio di turisti stranieri. Anche a Moneglia si prepara. Le spiagge libere sono già pronte con il sistema sperimentato lo scorso anno, postazioni segnalate da Paletti e steward all'ingresso. Abbiamo chiesto il supporto di un gruppo di steward che sono in servizio tutti i giorni e penso che in questo modo si possa davvero offrire un servizio ai cittadini di Moneglia, ma anche ai turisti che vengono, che hanno comunque necessità di avere la fruibilità della spiaggia libera, ma anche in piena sicurezza. A giorni sarà anche nuovamente attivo il sito che indica il livello di riempimento delle spiagge. Attraverso il quale è possibile verificare l'affollamento della capienza massima di ogni singola spiaggia. Ci sarà il segnale verde quando c'è tanto posto, giallo quando la spiaggia si sta per riempire e rosso quando evidentemente è piena. Ci sono dieci spiagge libere e così una persona può decidere di dirigersi dove c'è ancora posto. Non solo mare, il Borgo sta anche preparando un calendario di manifestazioni estive. Da sabato prossimo e fino a settembre riparte il mercato dell'artigianato e dell'agricoltura. Il 26 giugno ci sarà la Notte Romantica organizzata in collaborazione con i locali del centro. In programma poi anche eventi culturali. L'associazione culturale Clizia proporrà la settimana del giallo dal 4 al 9 di luglio nell'incantevole cornice del castello di Villa Franca e l'associazione culturale Felice Romani tra poco inizierà con i concerti di musica classica nell'oratorio dei disciplinanti. D'oggi e sino a venerdì prossimo 18 giugno chiudono al traffico le gallerie tra Riva Trigosa e Moneglia dalle 9 alle 12.05 e dalle 13.40 alle 16.55. A Emet informa che la linea 42 Sestilevante-FS-Moneglia potrà subire variazioni o limitazioni al servizio. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa è stato in visita nei comuni di Cogorno e Chiavari. L'incontro con Costa è stata l'occasione per parlare non solo di sanità ma anche di altre problematiche del nostro territorio. A Cogorno infatti si è recato la Basilica dei Fieschi, edificio che ha necessità di un restauro conservativo piuttosto urgente e il sottosegretario ha assicurato l'interessamento per il reperimento dei fondi. E' seguita la visita lab vaccinale allestita alle caserme di Caperana. Ad accoglierlo il comandante della scuola telecomunicazioni e anche il sindaco di Chiavari. Costa ribadito la linea del governo in merito alle seconde dosi rimodulate dopo la decisione di sospendere il vaccino AstraZeneca per gli under 60. Sentiamo le sue parole nel servizio che segue. Dobbiamo avere massima fiducia nei confronti della scienza, della comunità scientifica, da parte dell'AIFA, del nostro CTS. Credo che sia uno di quei temi in cui la politica debba semplicemente prendere atto di quelle che sono le indicazioni, ovviamente assumersi la responsabilità di fare delle scelte, ma ripeto, tenendo in considerazione di quelle che sono le indicazioni tecnico-scientifiche. Quindi mi pare che sulla seconda dose ci sia un'indicazione chiara da parte del CTS che è avvenuta proprio nei giorni scorsi e oggi noi come governo applichiamo le scelte sulla base di quelle indicazioni. Non credo che siano scelte su cui la politica debba incidere più di tanto. Io credo che non spetti alla politica a decidere se un vaccino si può somministrare o non si può somministrare e a che età si deve essere somministrato. Ripeto, credo che ci debba essere un grande senso di responsabilità e un grande rispetto anche dei ruoli. Sono decisioni prese su base scientifiche, studi scientifiche che vengono implementati nel tempo e tutto comunque anche questo cambiare, rimodulare certi comportamenti è sulla base comunque di documenti che nel tempo vengono implementati. Beh, non c'è dubbio che siamo di fronte alla gestione di una pandemia, lo stiamo facendo e per fortuna che abbiamo una comunità scientifica che ci ha messo a disposizione i vaccini. Oggi se il nostro paese ha imboccato una strada di riaperture graduali, di un ritorno graduale alla normalità è perché abbiamo un vaccino su cui poter contare. Quindi credo che dobbiamo assolutamente rinnovare massima fiducia nei confronti, ripeto, della comunità scientifica, massima fiducia nei vaccini, nella consapevolezza che è l'unica strada per uscire da questa pandemia. Poi è chiaro che se arriveranno alte indicazioni la politica dovrà adeguarsi e rimodulare le proprie scelte sulla base di quelle che saranno eventualmente altre indicazioni. Ecco il bollettino del Covid per quanto riguarda la Liguria. Sono cinque i nuovi positivi. Nel Codivid 19 oggi in Liguria a fronte di 1485 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore ai quali si aggiungono altri tramponi, 485 antigenici rapidi. In Asele 4, Chiavarese, non ci sono stati nuovi contagi. Il numero complessivo degli ospedalizzati in Liguria è di 67 persone, di cui 12 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nessun ricovero nel reparto Covid di Sestri Levante. Pagina ecclesiale del nostro giornale. All'Angelus e Francesco ricorda che Dio opera nelle piccole cose e ha esortato quindi ad avere fiducia in Lui. Di fronte alla crisi della fede, al fallimento di progetti, anche nella Chiesa può attecchire la zizzania della sfiducia. Ma i risultati delle azioni dipendono sempre dal Signore. Sentiamo. Non lasciarsi paralizzare dalla sfiducia nel vedere in tante situazioni della vita la debolezza del bene rispetto alla forza apparente del male o quando constatiamo che nonostante l'impegno le cose non sembrano cambiare mai. Il cuore dell'esortazione che è il Papa rivolto all'Angelus è di avere fiducia in Dio. Serve uno sguardo nuovo per scoprire la presenza di Dio che come amore umile è sempre all'opera nel terreno della nostra vita e in quello della storia. Quanto è importante questo atteggiamento anche per uscire bene dalla pandemia, coltivare la fiducia di essere nelle mani di Dio e al tempo stesso impegnarci tutti per ricostruire e ricominciare con pazienza e costanza. Il Papa avverte che anche nella Chiesa può attecchire la zizzania della sfiducia, soprattutto dice quando assistiamo alla crisi della fede e al fallimento di vari progetti e iniziative. Ma ricorda, i risultati della semina non dipendono dalle nostre capacità, ma dall'azione di Dio. A noi sta seminare e seminare con amore, con impegno e con pazienza, ma la forza del seme è divina. Lo spiega Gesù nell'altra parabola odierna. Il contadino getta il seme e poi non si rende conto di come porta frutto, perché è il seme stesso a crescere spontaneamente, di giorno, di notte, quando lui meno se lo aspetta. Con Dio anche nei terreni più aridi c'è sempre speranza di germogli nuovi. Una tragedia che interpella la coscienza di tutti. L'allarme alimentare nel Tigrai, nel saluto Post Angelus, Francesco recita un'ave maria per la popolazione della regione dell'Etiopia colpita da violenze. L'appello a non tollerare che si muoia di fame. Sentiamo le sue parole. Sono particolarmente vicino alla popolazione della regione del Tigrai, in Etiopia, colpita da una grave crisi umanitaria che espone i più poveri alla carestia. C'è oggi la carestia, c'è la fame lì. Preghiamo insieme affinché cessino immediatamente le violenze, sia garantita a tutti l'assistenza alimentare e sanitaria, e si ripristini al più presto l'armonia sociale. A questo proposito ringrazio tutti coloro che operano per alleviare le sofferenze della gente. Preghiamo la Madonna per queste intenzioni. La Chiesa di Chiavari si prepara ad accogliere il Vescovo Giampio De Vasini, che inizierà il suo ministerio episcopale domenica 20 giugno. L'accoglienza sarà alle 17 in piazza di N.S. dell'Orto, con rito d'ingresso e la solenne Eucaristia in cattedrale. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid. Sono ancora disponibili alcuni posti per poter assistere alla celebrazione in piazza dell'Orto e chi desiderasse prenotare può contattare il numero del centralino della Curia 0185 59 051. Ripeto, 59 051. Da domani, martedì 15 a giovedì 17. L'orario è dalle 10 a mezzogiorno. Riceverà tutte le indicazioni sulle modalità di ritiro del passe e di partecipazione all'evento. E in preparazione all'incontro con il nuovo Vescovo Diocesano, mercoledì 16 giugno alle 20.45, sempre nella cattedrale di N.S. dell'Orto in Chiavari, Monsignor Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e teologo, trarà un incontro dal titolo Dov'è la Chiesa, la comunità cristiana e il suo pastore. E' possibile partecipare in presenza dentro la cattedrale di N.S. dell'Orto. In attesa del nuovo Vescovo si susseguono i messaggi di effettuoso ringraziamento a Monsignor Tanasini, il pastore che ha condotto la Diocesi di Chiavari per ben 17 anni. Un particolare momento di festa è stato vissuto nel seminario Vescovile, a margine della celebrazione eucaristica di Combiato. Vediamo. Non ha temuto il confronto con la nazionale di calcio Monsignor Alberto Tanasini, che proprio nella serata di esordio degli azzurri agli europei ha radunato attorno a sé la sua nazionale personale. 22 preti ordinati nei 17 anni di episcopato a Chiavari, con una differenza sostanziale rispetto ai 22 di Mancini, una squadra di soli titolari. A fianco a loro i veterani che non hanno voluto mancare a questa occasione speciale di ringraziamento per il bene e la paternità loro manifestata dal pastore della Diocesi. La sintesi di tutti i sentimenti di affetto e di grazie è stata raccolta in un album fotografico e in un quadro in cui il motto episcopale di Monsignor Tanasini, Cognovimus et Credidimus Caritati, ha preso i volti di giovani sacerdoti che hanno conosciuto e creduto all'amore. L'affetto e l'abbraccio della Diocesi si è manifestato attraverso tanti scritti e tanti volti, molti presenti in cattedrale, rappresentanti del mondo civile, della politica, del sociale. Avrebbe voluto che il villaggio diventasse il sociale della Diocesi di Chiavari e allora, proprio anche seguendo quello che è l'insegnamento di Don Nando, quello che era sempre stato il suo sogno, il rispondere ai bisogni lì dove sono. Abbiamo tenuto in contatto con lui sempre in questi quattro anni del passato nostro mandato e abbiamo potuto con lui fare dei veri discernimenti e proseguire il cammino che ovviamente con il suo aiuto è diventato più facile. Siamo legatissimi alla cattedrale, diciamo che il 90% delle nostre azioni sono rivolte alla cattedrale. La cattedrale è la chiesa del vescovo, quindi abbiamo sempre avuto un dialogo più che cordiale e costruttivo. Sono stati anni caratterizzati innanzitutto da un segno di presenza, perché la mia memoria va a tutti gli anni, noi organizziamo il nostro appuntamento annuale nei vari posti della Diocesi e il vescovo non ha mai voluto mancare. È stato veramente un acquisto per la città e speriamo che continui sulla stessa strada con il nuovo vescovo. Diego De Martini è stato prescelto per ricevere il premio Bontà Donnando Negri 2021 con la seguente motivazione, con l'attestato della bontà silenziosa che connota da sempre la sua vita e che interpreta lo stile proprio di Donnando. Il premio sarà consegnato nel pomeriggio di sabato 10 luglio 2021 presso il centro di San Salvatore, villaggio del Ragazzo, al termine della Santa Messa che verrà celebrata all'ora 18 in occasione dell'addio a Donnando. In vista della giornata mondiale del rifugiato 2021, a Sessi Levante si trarà una serie di iniziative per approfondire i fenomeni migratori e raccontare le esperienze di accoglienza sul territorio. Sentiamo. Si chiama Al di qua del mare, la serie di iniziative in programma a Sessi Levante per la giornata mondiale del rifugiato 2021. Eventi online e in presenza che partiranno con l'inizio della settimana per poi concludersi domenica 20 giugno, data appunto in cui cade la ricorrenza. Occasioni per raccontare il fenomeno migratorio e alcune storie personali. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare le persone e aumentare il senso di comunità. Crediamo davvero e speriamo che passi il messaggio che per noi è importante sentirci parte di una comunità perché è la comunità che interagisce con le persone che arrivano e le persone che vanno. Noi siamo uno strumento di questa comunità. Fino al 16 giugno si può guardare in streaming il documentario Tutti i nostri affanni che racconta le storie di persone migranti alle prese con la pandemia e le restrizioni. Il link è disponibile gratuitamente su richiesta. Primo appuntamento in presenza è giovedì 17 alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso alle ore 18.30. Storie di chi parte e di chi resta è l'incontro pubblico con il dottor Gaddo Flego e il mediatore culturale Jean-Paul Scemeza, introdotto dalla giornalista Paola Pastorelli. Due testimonianze dirette di storie di persone che arrivano, di persone che stanno, di persone che partono. Ci sembrava molto bello raccontare un intero percorso che spesso è lineare ma spesso è anche circolare. Sabato 19 giugno poi alle ore 20.45 alla Sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata sarà allestito lo spettacolo teatrale Coccodrilli di Michele Fiocchi e Fabio Geda che narra la storia di un bambino divenuto ragazzo durante un lungo viaggio da un paese in guerra senza futuro verso la meta del proprio sogno di libertà. Durante la settimana ci sarà la possibilità di essere aggiornati non soltanto sugli eventi ma anche su informazioni e notizie riguardanti il mondo delle migrazioni, il mondo dei rifugiati in particolare e soprattutto la nostra realtà, quella dell'accoglienza di Sestre e di Castiglione attraverso la pagina Facebook Aldi Qua del Mare. Gli eventi sono organizzati dalla cooperativa Gorà, dalla cooperativa Il Sentito di Arianna e dal Villaggio del Ragazzo grazie al supporto logistico di Mediaterraneo Servizi. Hanno collaborato anche Zuccheramaro, l'Associazione Verità e Giustizia al Tiguglio per i Diritti, il Sistema Bibliotecario di Sesti Levante, la Carita Studio Cesana, l'Ampi di Sesti Levante, l'Associazione Popoli Solidali, la Proloco di Castiglione Chiavarese, l'Associazione Il Tè delle Donne del Mondo e l'Associazione L'Italia che Resiste Tiguglio. Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue istituita dall'Organizzazione Mondiale di Sanità per ringraziare tutti i donatori di sangue, plasma e piastrine. Si celebra nel giorno della nascita di Karl Landensteiner che nel 1900 identificò i gruppi sanguigni. Con l'estate inizia un tempo non facile per il calo delle donazioni. Anche nel Tiguglio si è voluto ribadire l'importanza di questo gesto di gratuità. Sentiamo. Give blood and keep the world beating. Dona il sangue e tieni vivo il battito del mondo. E' questo lo slogan che caratterizza l'edizione 2021 della giornata mondiale del donatore di sangue. Un'occasione per ribadire l'importanza di questo gesto di gratuità che dona vita e un po' di sé agli altri. Lo ha ricordato ancora una volta Papa Francesco All'Angelus. Lo hanno voluto sottolineare le associazioni dei donatori che si spendono per questa pratica e che oggi hanno voluto farlo con un dono particolare. Abbiamo deciso di fare una piccola pubblicità alla nostra associazione e a tutte quelle del Tiguglio regalando ai panifici i nostri sacchetti del pane con tutti i nostri riferimenti in modo che a casa dei donatori e dei cittadini arrivi un ricordo dell'Avi. Insomma dovrebbe venirgli la curiosità di scoprire che cos'è oppure il conforto di sapere che non sono soli a chi già dona il sangue. Inizia una stagione difficile? L'estate è la stagione della carenza di sangue perché capita perché c'è caldo, ci sono le vacanze, c'è chi soffre un po' di pressione bassa e non riesce a dare a donare il sangue. Il bisogno di sangue invece non cala mai, è costante tutto l'anno. Quindi noi stiamo integrando, organizzando delle raccolte infrasettimanali per la prima volta da molto tempo per cui anche chi vuole donare in settimana. Quando sarà la prima occasione per poter fare questo? In luglio, sarà il 6 luglio che è martedì e poi ci sarà l'automoteca la terza domenica del mese a Chiavari in piazza Mazzini. E intanto continua anche la mobilitazione per coinvolgere sempre più persone in questo che è un grande atto di generosità. in piazza a Chiavari i primi di giugno con una caccia al tesoro via WhatsApp innovativa c'è la presenza sul territorio anche della vostra realtà. E la cosa più importante che fa l'Avis è proprio la divulgazione che fa. Raccontare ai cittadini che si può donare il sangue, c'è chi non sa che si può fare, c'è chi pensa che sia pericoloso, che si possano contrarre malattie. Quindi la nostra attività principale è proprio quella di cercare di catturare l'attenzione delle persone con le nostre manifestazioni e essendo presenti in particolare noi andiamo nelle scuole e quindi parliamo della nostra attività ai bambini fin da piccoli e cerchiamo di raccontargli quelle che sono la nostra vocazione. Inaugurazione di una nuova automedica e consegna di riconoscimenti ai donatori per l'anno 2020. La FIDAS organizza un evento dedicato ai soci sabato 19 giugno alle ore 10.30 in piazza di N.S. dell'Orto a Chiavari. Ci sarà la benedizione del nuovo mezzo con la presenza anche dei soci fondatori Edda Faraone e Sergio Poggi e la consegna delle benemerenze per le 10, 25, 50 e 100 donazioni. A raggiungere la tripla cifra quest'anno è stata Miriam Barbieri l'evento organizzato nella settimana in cui ricorre la giornata mondiale del donatore. La cronaca a fine settimana di controlli per il comando provinciale dei Carabinieri di Genova con pattuglie nei centri città e posti di blocco. Nel Tiguli i Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due persone per guida in stato di ebrezza. Avevano 0,89 e 1,17 grammi per litro. E poi altre due persone per essersi rifiutate di favorire i propri documenti agli agenti per sottrarsi all'identificazione. I Carabinieri di Sessi Levante invece hanno denunciato cinque persone per aver messo musica ad alto volume nella spiaggia della Secca in comune di Moneglia. Complicato intervento dei Vigili del Fuoco di Chiavari che ieri pomeriggio verso le 14.30 sono stati chiamati a soccorrere un uomo caduto con il parapendio. Lanciatosi da soglio, l'uomo ha concluso il suo volo sulla cima di un rovere alto una ventina di metri a Pian de Ca, a San Colombano, Certenole, rimanendovi bloccato sopra. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche con squadre specializzate nel soccorso in zona impervia i cosiddetti SAF che sono giunti sia via terra sia dal cielo con l'elicottero Drago del Vigili del Fuoco. Con la scala in dotazione è stata raggiunta l'altezza di una decina di metri dopodiché hanno continuato la salita con tecniche di tree climbing arrampicata su albero con ramponi e corde lanciate sui rami. Raggiunto l'uomo è stato quindi approntato un sistema di calata e dopo aver tagliato le corde della velle lo hanno condotto a terra. Fortunatamente, a parte qualche graffio, non aveva riportato ferite serie. Sul posto anche il 118 con la pubblica assistenza di Cicagna. Torna questa sera l'appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento direttamente su con un reportage realizzato a Cairo Montenotte nel Savonese. Alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15 parleremo di ambiente e di ecologia sostenibile. La Filippa è un'altra cosa, sarà un viaggio nella discarica verde che non inquina e che crea il valore. Vediamone un'anticipazione nel servizio che segue. In altre discariche siamo abituati a vedere il cumulo dei rifiuti, le fasce dei rifiuti, poi ci sono fasce verdi con i rifiuti sotto e anche se non sembra. Quindi è un'idea proprio di partenza, di scelta. Beh, ci sono due aspetti. Intanto nella discarica, diciamo, che si è nell'immagine collettiva della discarica, la discarica per rifiuti urbani, dove arriva il rifiuto che i camion raccogono dai cassonetti stradali e quello come arriva viene conferito tal quale. Noi invece ritiriamo solo scarti di lavorazione di rifiuti e quindi possiamo andarci a selezionare sul mercato della richiesta di smaltimento i rifiuti migliori per conseguire i nostri obiettivi di ripristino ambientale. In più, questo ci permette di avere rifiuti che possono essere immediatamente collocati in discarica, costippati e compattati e quindi rivestiti poi con le coperture e rivegettati velocemente. Anche questo, la scelta di iniziare le opere di recupero vegetazionale appena le scarpate sono formate, da una parte rappresenta un costo aggiuntivo, ma dall'altra ci permette di minimizzare gli impatti paesaggistici, anzi di valorizzare in anticipo le nostre aree. Non sentiamo un grande odore, non ci sono gabbiani o uccelli strani, questo è stato un bel traguardo. Questo è un traguardo che deriva proprio dal fatto che la scelta dei rifiuti è finalizzata proprio a non avere questo tipo di problemi. Quindi spesso sacrifichiamo anche una parte del nostro business, ma perché la scommessa è quella di guadagnare un po' meno adesso, ma guadagnare dopo, guadagnare dopo avendo un'area ripristinata, fruibile per altre attività. Nel 2021 sarà effettuato il censimento della popolazione delle abitazioni e Santa Margherita Ligure assume 5 persone tra ottobre 2021 e gennaio 2022. Il loro compito sarà quello di raccogliere informazioni su famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici, attraverso interviste dirette svolte con l'ausilio di questionari. La domanda va presentata entro martedì 29 giugno, i dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale delle comune di Santa Margherita Ligure. Le altre notizie della giornata nel punto news. Può partire la sigla. La Giunta Comunale di Recco ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione del prefabbricato abusivo adibitavar in lungomare Bettolo, ponendo così fine ad una questione trentennale. Verrà realizzata una nuova pavimentazione bituminosa in armonia con quella esistente. Intervento del costo complessivo di 30.000 euro riguardo un'area demaniale marittima all'altezza della passerella Cevasco. Luigi Di Clemente è il nuovo vicario questore di Genova. Si è insediato oggi e va a sostituire Francesco Liccheri. 57 anni, di origine molisana, ha al suo attivo una lunga onorata carriera che lo vede ricoprire in carichi alla Criminal Pool, al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma, nelle squadre mobili di Campobasso, Agrigento e Dancona. Tre padiglioni dell'ospedale Villa Scassi di Genova San Pierdarena sono stati intitolati ad altrettanti professionisti che hanno operato all'interno del nosocomio. Il padiglione 3 è stato dedicato ad Emilio Brignole, responsabile della chirurgia di pronto soccorso, prematuralmente scomparso per complicanze legate al Covid. Il padiglione 5 è intitolato all'infermiera Anna Poggi e il padiglione 6 a Dino Pesce, già direttore della medicina di Villa Scassi, in pensione da qualche anno. A Moneglie è stata inaugurata la nuova sede della Protezione Civile Braccio Operativo della locale sezione della Croce Azzurra. Si trova nei locali dell'ex bocciofila, in località Crovetta, ed è stata dedicata alla memoria di Luigi Cassola, benefattore che aveva contribuito a realizzare la struttura negli anni 90. Nel corso della cerimonia sono stati inaugurati anche due mezzi della pubblica assistenza Croce Azzurra per il trasporto sanitario ed un carrello per il defender in dotazione al gruppo Protezione Civile. L'associazione Villa in Bici ha compiuto dieci anni in occasione del compleanno, sono state lanciate alcune iniziative, la stesura di una nuova ciclo-guida, disponibile a partire da novembre, e il rilascio sul territorio, nei comuni di Sestri Levante, Telavagna, Chiavari e Rapallo, dei sassi colorati dell'associazione. A partire dalla fine del mese di giugno, chi troverà almeno tre sassi potrà recarsi in sede per ritirare un gadget. Il presidente della Prorecco Pallanuoto, Maurizio Ferugo, e il vicepresidente Raldo Pizzo hanno ricevuto dalle mani del presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, il Crest dell'Assemblea Legislativa Ligure. Un riconoscimento alla vittoria per la nonna volta della Champions League e anche al valore dei componenti della squadra che parteciperanno alle prossime Olimpiadi. Nel giorno del trentesimo compleanno di Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano in carcere in Egitto dal febbraio 2020, il Comitato Verità e Giustizia al Tiguglio per i Diritti aderisce al Flash Mob Waiting for Patrick Zaki organizzato in diverse parti d'Italia. Per il Levante, l'appuntamento è mercoledì, 16 giugno alle 18 in Piazza Mazzini a Chiavari. Diverse le associazioni che hanno dato la loro adesione e parteciperanno a questa iniziativa. E ora, come sempre, gli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti per martedì 15 giugno. Dalle 9 alle 13 in Largo Valerio Riccio in zona Tannino a Sastrilevante sarà l'estito il mercato agricolo e delle autoproduzioni. Si potranno trovare prodotti agricoli direttamente dal nostro territorio e derivati. Aperto alle visite il Museo archeologico nazionale di Chiavari dalle 9 alle 14 su prenotazione si potranno visitare i nuovi allestimenti al piano terra di Palazzo Rocca. Un viaggio sul territorio dal 2700 a.C. al Medioevo. Alle 11 nell'atrio di Palazzo Tursi a Genova verrà presentata la guida pratica gruppi di auto mutuo aiuto Genova Insieme trasformare i problemi in risorsa. La didattica per la scuola primaria può essere uguale per tutti. Su questo tema si snoderà l'incontro organizzato dalle 17 in diretta sul sito COP62. Rosanna Lanari e Viviana Federici di Martorana presenteranno il secondo volume del metodo educativo psicomotorio ideato per la seconda classe della scuola primaria. Lo sport è netta sconfitta in gara 1 per le ragazze della Rapallo Palla Nuoto nel campionato di Serie A2 femminile contro NC Milano e la partita finisce 13 a 7 a pregiudicare il risultato il terzo tempo finita addirittura 5 a 0 partita girata male non avremmo dovuto perdere il terzo tempo con quel parziale comenta il coach giallo-blu Luca Antonucci sicuramente non eravamo nelle condizioni migliori per giocarci il risultato e affrontare una squadra ben attrezzata ora dovremmo fare il meglio possibile per ribaltare la situazione puntamento in gara 2 giovedì 17 giugno alle 19 nella piscina comunale di Rapallo parliamo di ciclismo fine settimana per gli atleti del team Velo Val Fontanabuona che ha partecipato al campionato italiano Master a Somma Lombarda su un percorso collinare di 100 km i piazzamenti sono stati soddisfacenti 26esimo posto per Simone Sica mentre Patrick Nastasi si è classificato 16esimo assoluto e quinto in categoria nella stessa giornata il team degli atleti Simone De Vincenzi si è classificato quinto assoluto e terzo di categoria nella Randonne di Pinocchio a Pescia mentre Danilo Bifoni è arrivato decimo assoluto e quarto di categoria nel Gran Premio Croce Bianca di Mignanego chiusura straordinaria per l'Ecosportello in via Cavur a Lavagna l'amministrazione comunale ha spiegato che sarà chiuso per l'intera giornata mercoledì 16 giugno poiché il personale che vi è impiegato parteciperà a un corso di aggiornamento e infine le chiusure in a 12 nuove chiusure notturne per interventi di manutenzione e ispezione sulla tratta il casello di Genova Est è chiuso in entrata e in uscita entrambe le direzioni dalle 22 di questa sera alle ore 6 di domani martedì 15 giugno questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento con informazione come sempre rinnovato domani 12.45 Tiguglio oggi questa sera l'appuntamento alle 21.10 con direttamente sulla rubrica di approfondimento settimanale io vi ringrazio per la vostra cortesa e attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra emittente arrivederci grazie a tutti